Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere così l'errore riguardo alla compatibilità del DirectX D3D11 su Fortnite ovviamente c'è chi non riesce ad aprire il gioco perché non supporta quindi non è compatibile il tuo gioco con questo tipo di modalità quindi in questo caso possiamo prima utilizzare il primo metodo andando un attimo su Epic Games dobbiamo entrare un attimo nella libreria dove teniamo il nostro gioco poi andare sui tre puntini e fare delle modifiche andiamo nella libreria tre puntini opzioni ed eccolo qua in questo caso se c'è il shader DirectX 12 tu rimuovi la spunta per spammiare anche lo spazio quindi in questo caso tieni solamente l'ungolo Fortnite e battaglia reale oppure se hai anche Fortnite salva il mondo tienilo togli tutto tranne prescarica le risorse trasmesse e la tua lingua che hai aggiunto su Fortnite e basta io ho solamente questo e fai applica una volta fatto vai su tre puntini scendi fino a giù fino a trovare gestisci opzioni di lancio metti la spunta qua sopra e vai a scrivere trattino D3D11 e basta e vai ad avviare Fortnite in modalità di rendering DirectX 11 se non dovesse funzionare puoi semplicemente reinstallare il gioco e poi inserire quel comando oppure vai così ad aggiornare la tua scheda grafica puoi farlo direttamente su gestione dispositivi oppure scaricando uno dei driver per la tua scheda scheda video aggiorna driver cerchi driver nel computer scegli da un link di driver disponibili metti così la tua scheda vai avanti e installi così il driver per questa scheda video oppure puoi farlo direttamente su io avendo la scheda grafica Nvidia uso Nvidia app per aggiornare così i miei driver scarico così la beta e la installo e poi vado sui driver tipo qua sui driver scarico e installo l'ultimo driver rilasciato ovviamente quando provi ad avviare il gioco quindi avvia il gioco sempre su Epic Games il gioco si sta avviando quando sta uscendo connessione in corso schiaccia il tasto Alt più invio lo trovi direttamente sulla tastiera per metterlo in finestra connessione in corso grazie quando sta facendo accesso in corso quando sta facendo accesso in corso prova a schiacciare il tasto Alt più invio per metterlo in finestra per non avere anche un problema riguardo al crash report Atena ed eccolo qua fortnite è andato per altri problemi ancora puoi sfogliare così la playlist con più di 110 tutorial su fortnite su tutti gli errori di Epic Games problemi di fortnite crash la RectX crash tutte le cose qua crash report ad adrena e basta quindi se hai problemi commenta sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao